Cambiamo completamente l'argomento, adesso è il momento di poter internet come è onestato. Sì… Subito. Motodog. 服 breaking… Motodog Joel O 1940 Non skills, ma... ma... ma stia-a pilare, p' ... p' ま... pa... pa... faves? No! Non ci sm... non ci sm... scope... non ci sm... scu... non ci sm... scu... 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 che scu... Cacaburizzo. 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 So... Barbuzzendo. Non... 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 Immaginavo. Si, si, si. Si, si. Si... Si figura. Un... Un... Grazie. Grazie. Prego. Buongiorno. Il mio amico Matteo sempre bello, elegante, fresco, frizzante, simpatico. Mi prepari un espressino molto cremoso con del cacao come solo tu sai fare, grazie. Subito Ivana, l'espressino per te arriva velocissimamente. non ho idea quando tu arrivi subito si ferma il mondo. Si ferma. E... Ton capiglia può fare sacchèdere!